Il D-Book Giunti TVP è un libro accessibile, un vero e proprio strumento compensativo sempre a disposizione per fare didattica inclusiva. Una volta aperto un volume nella versione sfogliabile, selezioniamo il pulsante con le ondine in alto a sinistra. Siamo sempre alle stesse pagine del nostro libro, ma siamo passati a una visualizzazione diversa. Le immagini, che come in questo caso non sono il contenuto principale, sono nella colonna di destra. Il contenuto principale, in questo caso il testo di studio, è nella colonna di sinistra. Questa nuova vista apre le porte alle esigenze di chi ha bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento e consente di usare un unico strumento per tutta la classe. Utilizziamo il pannello degli strumenti e scopriamo che posso ingrandire il carattere del testo. Possiamo renderlo maiuscolo, oppure modificare il tipo di carattere. Possiamo inoltre modificare il contrasto tra sfondo della pagina e testo. Il d-book consente inoltre di attivare la audiolettura del testo di tutte le pagine del libro dal pulsante con l'altoparlante nella barra in alto. La lettura si attiva premendo il pulsante play posto sopra il testo. Il testo letto verrà evidenziato con un effetto karaoke. Conoscere La montagna La montagna è un rilievo che raggiunge un'altitudine di almeno 600 metri SLM. È inoltre possibile selezionare solo una porzione di testo che si desidera ascoltare. Apparirà un piccolo player che consente di avviare la lettura. Il processo di formazione delle La audiolettura richiede la connessione a internet, ma una volta ascoltato il testo è possibile scaricare la versione MP3 della lettura. Potrai poi inserirla come allegato audio nella pagina del d-book. Il menu impostazioni permette di personalizzare la velocità di lettura e l'evidenziazione di quanto letto. D-book Un solo libro per tutta la classe